Siamo a fine giugno e i mercati finanziari sono un punto di svolta. Saliranno o scenderanno? Come si comporteranno i mercati alla luce delle nuove mosse messe in atto dalle principali banche centrali? Ce lo dicono gli analisti e i trader di House of Trading. Tu sai che nelle mie strategie, che sono molto basiche e molto elementari, trading sul BTP e vendita di opzioni, proprio a livello elementare, io faccio anche trading sul BTP, volevo andare short sul BTP, ma BNP quota solo degli strumenti long sul BTP, quindi sono andato short sul Bund, perché io sul medio termine sono estremamente rialzista sull'obbligazionario, ma adesso proprio perché il mercato non crede a questi rialzi dei tassi c'è stata un'impennata importantissima, sia dei BTP con i quali lavoro io, in particolare BTP lunghi 2046, 2050 e anche del Bund. A mio parere il mercato dovrà prendere atto che in realtà questi rialzi ci saranno, prima o poi questi titoli voleranno, bisognerà lasciarli correre, però in questo momento per me prevare ancora la logica del trading stretto su 2-3 punti percentuali, per cui secondo me da questi livelli sia il BTP che il Bund possono perdere 2-3 punti, per cui vado short sul Bund con ingresso a 134,80, uno stop, hanno sbagliato, hanno messo lo stop, il target è 132,81 e lo stop loss è a 135,10, nella grafica è stato probabilmente invertito, ma in realtà io vado ribassista sul Bund. Quindi ingresso a 134,80, target 132,81, quindi un paio di punti, e lo stop loss a 135,10. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 ad House of Trading. Grazie a tutti.